Vinitaly 2017, incontri con personaggi del mondo del vino come Marcello Meregalli, amministratore delegato di Gruppo Meregalli, non tutti sanno che in casa Meregalli c'è anche una cantina di proprietà tenuta a Fertuna e siamo qui proprio in questo stand. Esatto, noi dal 2002 non facciamo più Vinitaly perché come Gruppo Meregalli abbiamo le nostre manifestazioni che si chiamano Centovini, quindi preferiamo portare la clientela in ambienti un po' più piccoli rispetto a tutto questo bailame che c'è a Vinitaly, però abbiamo voluto venire quest'anno in chiave di produttori proprio perché nel 2009 abbiamo acquistato il 100% di questa tenuta, tenuta che nasce nel 1997 da un progetto del Cavaliere Zerivella con cui avevamo fatto questa società per partire con la produzione, i primi etteri vitati hanno iniziato nel 98, la prima annata di produzione è stata la 2002 e poi pian piano si sono incrementati il numero di etichette, i vitini differenti piantati fino ad arrivare poi quindi ai giorni nostri dove c'è la gamma attuale che porteremo avanti. Le coordinate precise, in che zona ci troviamo? Allora siamo nella Doc Maremma e siamo esattamente sull'Aurelia Antica all'altezza di località Grilli, comune di Gavorrano, quindi siamo quel triangolo all'interno tra Puntale e Castiglione della Pescaia entrando un po' nell'entroterra della Maremma. Una zona in cui quando avete appunto iniziato era quasi una scommessa a parlare di vino di qualità, oggi invece? Oggi è diventato un po' il nuovo Eldorado della Toscana, quindi abbiamo dei vini un po' differenti di carattere rispetto al ben più noto Bolgheri, ma tutti i grandi nomi del vino dagli Antinori al Terramoretti, Panerai, sono tutti arrivati un po' in zona, proprio nel triangolo d'oro della Maremma e soprattutto si vanno a fare dei vini con dei vitigni internazionali e molto bene invece sta venendo il Vermentino Toscano. Che target hanno questi vini? Allora vanno, diciamo prezzo pubblico, partiamo da un circa 11-12 euro prezzo Enoteca per gli entry level, fino ad arrivare sul top di gamma che è Messio, che in Enoteca andrà attorno ai 27-28 euro. E a livello di presenza lo troviamo prevalentemente in Italia o anche all'estero? Allora posso dire che siamo stati i più bravi all'estero perché all'inizio soprattutto avevamo bisogno di fare un po' di volumi perché l'azienda sono 150 ettari, 50 vitati, quindi abbiamo capacità produttiva di quasi 400.000 bottiglie. L'Italia l'abbiamo fatta sempre abbastanza marginalmente, volevamo essere con uno zoccolo duro forte anche su tutti i vari continenti, oggi siamo in 42 nazioni e finalmente poi ovviamente prendendo in mano completamente la gestione della parte italiana, anche oggi in Italia si può trovare un po' in tutta Italia diciamo. Grazie Marcello e direi buon vino Italy. Esatto, buon vino Italy, grazie a tutti.